si vabbè vabbè gente di vero scasso, ci sei sul suo gioco che p no eh non potevo farci niente senza il mio controller e senza la mia televisione silenzio 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 porco di c'è raga non posso far niente perchè sono con cali oh boy vabbè ma che cazzo sta facendo questo no 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 oh cazzo ho preso col drone no 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 che abbiamo perso devo fargli il giro no no anche un mio amico no scherzo la pippa troppo scarsa minchia l'argento che scandalo ieri ho messo un video su youtube che ero in classificata con i miei amici l'altro giorno no e in pratica eravamo appunto silenzio 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 palimento fatto dov'è? dov'è? non lo faccio fatto io il doc Coprimi, coprimi, coprimi Coprimi Lasciami Full team, raga, easy Easy full team, raga Di bobo cariata C'è montagna Caprimi, coprimi, coprimi